Il semino ha seminato la cipolla di qui. Questo è un ambiente chiuso, si crea tipo una micro serra. Per esempio questa è la cipolla, dopo la trapiantata su un recipiente, quella sarebbe spinace. La semina è come questa, dopo la trapianta sulle piantine, sulle vaschette è fatta posto. Questo è finocchi, sono finocchi piantati sempre su un semenzaio e poi vengono. Questo sarebbe l'insalata è lo stesso, la pianto su un semenzaio e poi la piantina la pianto sulle ricerche. Certo, perché qui poi porta avanti la germogliazione. Fino a che un certo momento è impossessata bene. In un clima protetto, quindi se viene una gelata o una pioggia queste piante sono protette. Poi c'è sempre la stessa tendenza.